Buongiorno e ben ritrovati, ben rientrati, ore 7 in diretta con un ospite, Daniele Riccioni. Buongiorno e grazie per essere venuto a trovarci. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Daniele, che è romano di nascita ma venzonese d'adozione ormai, è pronto, prossimo, diciamo, alla partenza, l'8 maggio, giusto? Per un viaggio che lo porterà lontano, da Venzone, a Fai vedere bene la maglietta, a Santiago del Compostela. Quindi un viaggio impegnativo che durerà diverse settimane, che però non è un viaggio, diciamo, non è una vacanza. Fa parte di un'iniziativa molto importante che hai pensato tu e che vorrei che raccontassi tu, insomma. Praticamente io cammino per Davide, è un progetto che nasce per aiutare Davide, appunto, un bambino di Venzone che tre anni fa durante un centro estivo in piscina ha avuto un incidente e da lì la sua vita e la vita della sua famiglia è cambiata. Da quel giorno è iniziato un percorso difficile perché Davide non è più quello di prima, adesso è affetto da tetraparesi spastica e praticamente grazie alla sua famiglia, insomma, stanno combattendo questa dura battaglia. E in qualche modo io ho pensato di fare questa iniziativa per cercare di dargli una mano, appunto. Tutto nasce da una, diciamo, voi vi eravate conosciuti. Sì, 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 avevo un'attività a Venzone, anche la famiglia di Davide. Esatto, avevo un'attività a Venzone e i genitori di Davide e la sua famiglia erano miei clienti e poi è nato un rapporto di amicizia. E insomma, quando poi è successa questa cosa che ha toccato un po' tutta la comunità, mi sono sentito in dovere di cercare di fare qualcosa. Allora ho avuto quest'idea e ho parlato con loro, insomma, poi è partito da gennaio, è partita questa macchina e ho messo in piedi questo progetto. Allora, raccontaci un po' questo progetto poi nelle parti, diciamo, più nel vivo, ecco, nel dettaglio. E praticamente l'anno scorso ho conosciuto una ragazza che andava in bicicletta da Roma a Caponord e faceva questo viaggio per raccogliere fondi per Amref, per costruire dei pozzi in Kenya. E praticamente lei, facendo questo diario su Facebook, raccontava giorno per giorno le varie tappe del suo viaggio e insomma chi voleva poteva sostenerla in questo viaggio e fare delle donazioni per questo scopo. Il mio progetto nasce copiando quest'idea qui, quindi partirò da Venzone dove sia io che Davide abitiamo e passo dopo passo coprirò questa distanza fino a Santiago dove sono già stato due anni fa. e sono all'incirca, secondo le mappe, 2.300 chilometri, però insomma, diciamo, va presa un giorno per giorno perché pensarlo tutto insieme sembra un po' una pazzia. E invece, insomma, giorno per giorno faremo un passettino alla volta per cercare di arrivare fino a... E direi farai perché è un'idea, cioè tu parti solitario, anche se sicuramente poi in questo cammino, insomma, è probabile che incontrai altre persone, sono sempre esperienze appunto, no? Molto ricche. La cosa bella è quella lì, che tu mentre cammini conosci persone, racconti la storia, la tua storia, la storia di Davide, insomma, io spero che porti ad avere un bel giro di persone che aiuteranno me e Davide a, insomma, consentirgli di avere una vita un po' migliore di quella che il destino gli ha riservato. Eh, purtroppo, sì, per le cure e naturalmente la gestione della sua vita. Esatto, purtroppo qui in Italia non ci sono grosse strutture che riescono a aiutare i bambini con queste patologie, quindi la famiglia spesso deve andare all'estero, quindi si tratta di andare in Slovacchia piuttosto che in Spagna, con, insomma, costi che vanno dai 900 euro a 1.500 euro a settimana solamente per le cure di Davide. In più, considerando che la famiglia è composta da 5 persone, quando si muovono, insomma, i costi sono abbastanza importanti. Sì, diciamo che da un mese, quando ho aperto la pagina Facebook, poi ho già avuto numerose persone che la seguono, perché siamo già intorno alle 700 persone. Ecco, la vedete qui. Sì, e sono già arrivate delle donazioni da persone che, insomma, non mi conoscono per dire che mi ha telefonato un signore di Bari dicendomi che voleva fare una donazione e poi, insomma, i colleghi al lavoro hanno già contribuito. Quindi, insomma, ha già raccolto delle adesioni. Sì, diciamo che sulla fiducia la gente ha già apprezzato questa cosa qui. Beh, ovviamente poi c'è appunto, qua lo vedete, adesso, insomma, c'è un codice IBAN, un conto dove i soldi vanno a finire, insomma, è tutto monitorato e tutto fatto alla luce del sole. Quello che ci tengo a precisare, insomma, è che tutte le donazioni vanno direttamente sul conto della famiglia di Davide che è riservato per le cure mediche. Saperebbe le specificare queste cose perché, appunto, dopo, insomma, se le sentono di tutti i colori, in questo caso sappiamo che è una donazione sicura. Diciamo, per le mie tasche non passa niente, anche perché poi il viaggio sarà interamente a mie spese e quindi c'è il codice bancario, quindi è sicuro che i soldi vanno lì e non hanno altri passaggi. Altre vie, esatto. Sarà un cammino che racconterai anche via social, no? Esatto, esatto. Obiettivo almeno. Diciamo che ogni giorno pubblicherò, insomma, le foto del percorso o gli incontri che poi farò e così, insomma, chi vorrà farà questa passeggiata con me e con Davide fino a Santiago, poi. Qua vedete, appunto, nella cartina, diciamo, disegnata il percorso di questi oltre 2000 chilometri, no? Esatto, quella lì è fatta un po' a grandi linee, però, insomma, rende l'idea di quello che poi sarà il viaggio. E per dormire, come ci si organizza? Allora, qui in Italia, essendo stato uno scout, mi sono rivolto principalmente… E allora, io faccio domande a un esperto. Esatto, in 23 giorni d'Italia ho trovato ospitalità quasi sempre tra gruppi scout o comunque parrocchie e ho due o tre persone che hanno visto la pagina e mi hanno detto, vieni a casa mia e ti ospito io. Quindi, insomma, ci sono già dei pernottamenti garantiti. Esatto, diciamo che in Italia fino a 20 miglia il percorso è ok. La prima tappa, quindi, si parte da Venzone? La prima tappa sarà da Venzone a Maiano, dove c'è un antico ostello di pellegrini che adesso stanno rimettendo in piedi. Sì, potrei essere il primo pellegrino che lo inaugura e abbiamo parlato proprio ieri con il signor Marino che si occupa dell'ostello. Sì, ne abbiamo parlato anche noi perché appunto questa fa parte di una rete, no? Esatto, esatto, di vecchi punti d'appoggio, diciamo, dei pellegrinaggi. Esattamente, e poi in Friuli proseguirò verso Spilimbergo e San Vidal Tagliamento per poi andare in Veneto e via verso la Liguria. E quindi, ah, ok, quindi da sotto e poi, diciamo, Monaco, Francia. Esatto, lì sarà tutto un pezzo della Costa Azzurra cercando di evitare magari i paesi, le città più grandi dove sarà un po' più difficile trovare ospitalità fino ad arrivare, insomma, a Lourdes. Poi da Lourdes inizierà, insomma, la segnaletica del cammino e da lì il passaggio in Spagna dai Pirenei. Insomma, poi, diciamo, una volta arrivati in Spagna si sta più tranquilli perché si sa dove trovare alloggio anche senza prenotare. E i costi sono decisamente più bassi perché, insomma, con 10 euro a notte te la cavi. Sì, sì, sì. La famiglia che cosa ha? Quando ho avuto quest'idea per prima... Come si chiamano i genitori? Solo il nome? Sì, sì, Elena e Paolo. Sono andato una sera a parlare con loro e niente, mentre raccontavo a Elena questa mia idea, non avevo neanche il coraggio di guardare in faccia perché non sapevo poi come... Ebbene, infatti, magari uno pensa, no? Esatto, però poi mi sono girato un attimo, ho visto che aveva gli occhi lucidi, ho detto, boh, allora lo prendo come un sì e niente. Poi ho parlato al lavoro che era l'altro scoglio importante, avevo il contratto che andava in scadenza e lì anche ho avuto, insomma, l'appoggio del lavoro che mi ha consentito di poter andare senza grosse... Sì, senza problemi e senza limiti di tempo. Esatto, e quindi faremo questo giretto di tre mesi, insomma, e poi quando rientrerò si vedrà. Eh, quando rientrerai ci aggiorneremo su... Sì, sì, assolutamente, insomma. Su quanto è accaduto, su come è andata e su anche la solidarietà, immagino che incontrerai e che raccoglierai durante questo percorso anche per il nostro Davide, insomma. Sì, 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 assolutamente. E poi è l'obiettivo. È l'obiettivo principale, sì. E dal punto di vista, diciamo, emotivo e spirituale? Allora, non lo faccio per un motivo spirituale, lo faccio per Davide, sostanzialmente, perché per fare una cosa del genere io penso serva una motivazione forte. Beh, una motivazione... sì, non da poco. Tanti mi chiedono, ma ti sei preparato fisicamente? Allora, due anni fa quando avevo fatto il cammino avevo fatto della preparazione, ma poi alla fine è uno sforzo talmente importante per il fisico e continuato che comunque allenato o non allenato avrai le tue vesciche, avrai la tendinite e quello lì già lo metto in conto. Però l'importante è che quando arrivano questi problemi uno ha la forza di dire... Perché c'è un obiettivo altro. E insomma, io mi sono fissato in mente un'immagine di Davide che è quella che poi, quando servirà, mi darà la spinta ad andare avanti. Bene, grazie Daniele, grazie per questa bella iniziativa, bella storia e niente, un saluto ovviamente ai genitori di Davide che magari ci stanno anche vedendo e bravi che hanno supportato questa bella iniziativa e un saluto anche a Davide. Grazie, grazie. Allora, in bocca al lupo, rimaniamo aggiornati. Rimaniamo aggiornati, seguite la pagina Facebook che è Io cammino per Davide e anche la loro pagina che è Un mondo a colore per Davide e insomma ci potete trovare lì. Dopo vi daremo i riferimenti quando pubblichiamo l'intervista su Facebook. Grazie Daniele e buon viaggio. Grazie. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo. Grazie.